Ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video E oggi vabbè Mi è arrivato un pacco Con delle carte bokeh Che mi è ricavato Non so nemmeno cosa c'è dentro Ho detto che c'erano solo carte bokeh Andiamo a scoprire Spero che non sia come i cinesi Cioè i giapponesi Che me ne hanno mandati tre Però queste non sembrano tre Quindi vabbè Andiamo a scoprirle Bene Abbiamo aperto C'è dentro una scatola Dentro un'altra scatola di pokemon Perché è così Cioè Vabbè Apriamo Che sono Vittime Ok Sono al contrario Sì sono al contrario Cosa sto vedendo Vediamo prima se sono vere Sono vere Sono verissime Voi le vedete Le vedete al contrario Non so perché Però sono vere Sono verissime Sono verissime Questo pacchetto Questo pacchetto Bene Lo metterò Qui che c'è una cassa Per io Io coliziono i pacchetti Bene Spero che non cada Bene Iniziamo con lo pacchetto Questo pacchetto Mi ha già visto una E dai Eh vabbè Ragazzi Sono troppo 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 Scivolose Mi li metto sotto Perché non voglio Voglio farvi vedere Allora Questa qui era prima Merale Queste carte Spero che non le ho Tutte già Vabbè Così non le ho mai avute Mai e poi mai Avute Mai 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 Mi cadono Sono scivolose Ah Madonna Le mettiamo qua Cioè Allora mi mancano Quella C'è Da Argentate Spero che Magari Chiorgi Mi sono fatto Mammare i cani Vabbè Vabbè Comunque Oggi sera Arrivò il video Del provino E Vabbè Spacchettiamo Allora Iniziamo Da Lui Dietro Verissimo Vedete La scritta La vedete Al contrario Però è vera Io La vedo Bellissimo Da Da Quindi Vabbè Giriamo C'è Questo Pikachu Lucario C'è Mega Lucario Molto Bello Ce l'ho Già Ora Non me l'ho Fatto Vedere Poi Partiamo Con Una Chicca Non so Dove Prounusciarlo Però Vabbè E Lui Che Sembra Tutto Fatto D'Oro C'è Però Se Guardi Dietro E Di Colori Diverse Vabbè Vabbè Iniziamo Con Un Charizard Vabbè Anche Quello Era Un Charizard Però Non c'è Charizard V Shiny Non so Cosa Dire Troppo Bello Troppo Bello No Cosa Ho Visto Dopo Cosa Ho Visto Dopo Non Siamo Parole Vabbè Continuiamo Un Charizard V Stavolta Non Shiny V Molto Bello Ma Questa Questa La Dovrei Vedere Non Per Farci vedere Indietro Tutto Anzi Faccio Così Troppo Bella Questa Qui Me La Metto Qua La Faccio Vedere Ultima vabbè poi abbiamo Chainsaw V dai sarebbe bene avere Magikarp 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 Wallhorn non lo so dire GX dai bella ah poi uscirà forse uscirà il novembre un video che ho calcolato tutte le carte che sto calcolando tutte le carte madonna in cinque pagine una cifra troppo bella vabbè c'è questo Pikachu Mega Edgar mi sa Edgar perchè vabbè penso di si mettiamolo qui ma questo qui questo qui questo qui è bello non so il valore però farà sui mille euro cinquecento perchè se una carta che c'è solo lui fa cinquecento mille qualcosa qui ci sono tutte e tre tre farà tantissimo beh vabbè un marcaro V però non ho visto ancora una Mega vabbè con i Pikachu Mega Pikachu V ci sono cinquanta e cinque carte ma quello che ho saputo vabbè un Charizard shine v max molto bello molto bello dai stiamo già iniziando bene Pikachu e zekrom gx arcobaleno dai molto bello sto facendo spazio perchè sembra tutta d'oro ma è verde Flareon V Flareon V dai oh io non ho ancora visto un voglio un Eevee o così oppure non l'ho mai avuto ma oppure l'argento poi abbiamo si legge V però c'è scritto V max oh i caduti vabbè Pikachu V max facendo spazio madonna quante siete morcheno morcheno v max morcheno morpenco non so non so dire ok se l'ho fatto giusto va bene dai dai zama zelta v dai zama zelta v c'è x charizard v max questo qui ce l'ho è molto bene mi piace mi piace molto mi piace molto scusami ok non faccio domande vabbè vabbè x 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 Vabbè tutto lo spaccamento vinto l'abbiamo fatto, quindi ciao!